Ti è mai capitato di andare di persona a verificare che ci fossero dei prodotti contrappatti? Sì, diverse volte, diverse volte. Questo forse era l'aspetto più divertente del mio lavoro. Mi è capitato di andare a fare degli accessi in mercati del falso. Ma con la lente di ingrandimento, io ti ci vedo con la lente di ingrandimento. No, però un po' camuffato. Impermeabile. Un po' camuffato così. Ti fingi di essere un cliente. Potenziale cliente. Ti proponi un grande affare, c'è bisogno di grandi quantitativi. Il singolo rivenditore non ce li ha. Però pensa di poter guadagnare una commissione dall'introduzione al suo fornitore. E poi si manda la finanza cinese. Il problema è che abbiamo svelato tutto l'iter e quindi dovrete cambiare tutto quanto. Pensavo anch'io che è saltata la copertura. È saltato tutto. Trovati un lavoro vero. È il video podcast che racconta percorsi di lavoro e di vita non convenzionali. La sa. Ragazzi, l'ho imparata. Non è vero, ho detto l'ultima parola. Il resto non lo sapevo ancora. Intanto è tornato mio fratello. Mio fratello. Figlio. L'inghia. Il famoso fratello figlio. Tu hai avuto una figlia. Ho avuto una figlia. Un applauso. Un applauso ad Anna. Grazie. Finalmente salutiamo Anna. Ciao Anna. Sono diventato zio. Che mi sta seguendo da casa. È stata un'emozione incredibile. Hanno fatto di tutto per non presentarmi questa bambina, ma alla fine io mi sono presentato da solo in casa. Senza invito. Esatto, per conoscerla. Come procede Matteo? Tutto bene? Bene, come tutti i neonati, benissimo. Rompe la Waller. Rompe la Waller. Eh va bene. Fisiologico? Assolutamente no, ma dormirò stasera. Però sei invecchiato dieci anni in due giorni. In due settimane. Quindi bene, benissimo. È uno spot. Come è andato? Tutto bene? La bambina sta bene? La bambina sta bene. Papà anche sulle cose importanti. La bambina è il papà. La mamma? Non è anche lei. Sì, anche lei. Ciao Gaia, congratulazioni. Passiamo... Federico Biserni in arte bise. Is back in town. Con gli occhiali. Stasera con gli occhiali. Con gli occhiali. Per darmi un'area più intellettuale. Mi piace, mi piace. Ma soprattutto... Ma soprattutto... Tutti con gli occhiali, è pazzesco. È vero, credibile. Ma soprattutto stasera è qui con noi Giacomo Balletti. Buonasera. Grazie. Aspetta perché io volevo dire che... Che lavoro fai? Ma l'ho già dimenticato. Spiegalo tu Giacomo. No, no. Lo spieghi tu. Posso spiegarlo un attimo io? Allora abbiamo... Tu devi sapere Giacomo che abbiamo la scheda dell'ospite. Matteo segue tutti i nostri ospiti per anni. In questo caso la... In questo caso veramente... Questo pedinamento va avanti dalla prima... Dicevo, anzi, quarta ginnasio. Pazzesco. Avevamo 14 anni, lo sto pedinando. Ti sentivo un piatto sul collo anche prima quando... Cioè lui ha fatto il liceo apposta con te... Apposta con te. Solo per questo momento ti rendi conto. Leggo questa bellissima scheda. Ma che tu leggi? Leggo... No, questa è lunga però. E' appena te lo dedicavi. Lo conosci da vent'anni. E' una scheda che merita di essere letta. Giacomo Balletti. Da sempre per gli amici più intimi è semplicemente il Giangi. No, mai. Cioè per il compagno elementare. Questa è l'infamata. È un'imboscata questo podcast. A lui si è ispirato Stan Lee nella creazione del personaggio Tony Stark. Genio, millardario, playboy, filantropo. Ora non più playboy che sua moglie si offende. Salutiamo. Ciao Amiru. Salutiamo Amiru. Grazie al suo talento... Che è qua dopo la pago a casa. Grazie al suo talento multiforme e polivalente. Si è cimentato in quasi tutti gli ambiti dello scibile umano. Studi in legge conditi da Master e LLB in UK. Corsi di coding. Incursioni nel mondo dei metri cioccolatieri di alta gamma. Una passione sfrenata per il food porn, i social media, il metaverso e la geopolitica. Ha prestato la sua attività lavorativa nell'ambito legal ai quattro angoli del mondo. Cina, Turchia, Nigeria. Per quanto tempo si tratterà nella grigia Milano? Ma soprattutto perché sei tornato qua? Chi te l'ha fatto fa? In realtà sono tornato... Per noi. Per fare il podcast. Solo per questo podcast. Quindi appena finiamo prendo e torno. No, in realtà sono tornato nel gennaio del 2020 pensando di fermarmi per due settimane durante il capodanno cinese. Solo che al tredicesimo giorno ho avuto un po' di febbre e mi sono recato al sacco. E lì ho capito che non ce l'avremmo fatta. Nel senso che c'era una piccola saletta dietro al pronto soccorso e ho fatto il test. Ci sono avute sei ore prima che arrivasse il risultato. Era negativo, quindi aveva preso soltanto un malanno in stagione. Però lì ho capito che se fosse mai arrivato il covid da noi saremmo rimasti impantanati per... Ho un bel ricordo io perché tu sei arrivato e scherzando noi dicevamo Ma sì, andiamo fuori a cena con Giacomo che è appena tornato dalla Cina e vai! Brant, tutti fuori a cena! Ragazzi ho la febbre. Silenzio! E invece non era covid. No, non era covid però... Però mi ricordo che non eravamo molto pronti in quel momento. Era proprio agli inizi. Di cosa ti occupavi in Cina? Cioè come sei finito in Cina, in Turchia, in... Sei stato anche in Nigeria? No, in Nigeria no. In Nigeria è il mio viaggio di nozze che non ho ancora avuto. Ma vabbè sei stato in Nigeria! No, ma no, non ci sono stato, ci devo andare. Come no? Non sono stato in Nigeria. Ma tu hai millantato sui social media di essere stato in Nigeria? Ah no, ma no, siete dei calascioni. Ho inviato una foto di Lagos e ci siete cascati. Come sento? Io no, io no. Una volta ho mandato una foto dello Spire della torre Unicredit qua a Milano. e ho scritto saluti da Dubai, che un nostro comune amico mi ha poi scritto in privato per consigliarmi i luoghi da visitare a Dubai. Invece eri qua, eri qua con me. Cosa ti ha portato? Ma domani inziale era? Ecco perché la Nigeria, per quella foto del mercato sull'acqua. Il fatto è che lui, per seguirti, per pedinarti, è andato in Nigeria. E non ti ha trovato. Non ti ha trovato, però ormai era lì e quindi ha detto anche in Nigeria. Sono stato anche sequestrato da Boko Haram. Come sono andato in Cina? Come sei arrivato in Cina? Come sei arrivato in Cina. Diciamo che ho sempre avuto un forte interesse per l'Asia, che forse è nato quando ero ragazzino per le arti marziali. Insomma ho cominciato a praticare Judo, poi avevo interesse per il Kung Fu, vedevo i film di Bruce Lee, insomma vedevo questi... i film erano orientati... erano stati girati a Hong Kong, quindi insomma mi affascinava molto la città, con la giungla, eccetera. E quindi ho sempre avuto questo interesse. Poi durante l'università purtroppo ho fatto legge, che è molto noiosa, e quindi ho trovato un modo per sopravvivere, cioè studiare il cinese in parallelo. E avevo l'idea di fare qualcosa di particolare, insomma non seguire il classico percorso vocatizio milanese. E poi c'è stata l'opportunità di andare in Cina, nel senso che ho cominciato a scrivere i vari studi legali a Shanghai, e nessuno mi ha risposto. E poi per fortuna un grande studio internazionale mi ha offerto una chance di fare un periodo di lavoro, un internship, che poi si è confermata. E si è rimasto là. E poi si è creata un'opportunità di lavorare per un'altra sede di questo studio a Hong Kong, e quando ero lì lo studio per cui ho lavorato fino a settembre scorso, mi ha chiesto se avessi interesse di seguire il loro desk a Shanghai. Ma tu prima sei andato a Hong Kong? Prima sono andato a Shanghai, poi a Hong Kong e poi a Hong Kong sono tornato a Shanghai. Ma già un po' lo parlicchiavi? Sì, sì, lo parlavo, sì. Lo parlicchiavo, però ovviamente meglio da quando mi sono trasferito in Cina. Ma ti hanno fatto un test prima di assumerti sulla tua conoscenza del cinese? O sono andati sulla fiducia? No, non hanno fatto un test, no. Però insomma, il lavoro era dentro uno studio legale cinese. Per cui per forza di cose... Per forza di cose devi sapere fare le... E qui dove l'avevi studiato il cinese? Sì, avevo iniziato con un corso in cattolica e poi avevo trovato una professoressa privata. Poi ho visitato la Cina in più occasioni. Che puoi dire, studiare il cinese non vuol dire assolutamente nulla, no? Che non esiste la lingua, il cinese. Il Putonghua, il mandarino, sostanzialmente, sì. Poi c'è il cantonese, a Hong Kong e nel Guangdong, però insomma, è parlato da centinaia di milioni di persone. Però tutti parlano comunque del mandarino, quindi conviene focalizzarsi. Consigli, nel caso chi volesse iniziare un percorso un po' particolare come il tuo, consiglieresti il mandarino. Sì, sì. Quindi ti occupi, sei esperto di proprietà intellettuale in Cina, giusto? Sì, tutela dei marchi in Cina. Ok. Ti chiedo... Scusami, tutela dei marchi in Cina? Sì. Cioè, marchi in Cina, la patria della contraffazione. Eh, in realtà, questa è una storia. Succede. Storicamente è vero. È un paese di contraffazione, perché tutte le economie emergenti vivono dei periodi in cui il mercato non è regolamentato, è facile fare impresa, e quindi la cosa più facile da fare è copiare un prodotto, un marchio che funziona, è un avviamento immediato. Anche gli Stati Uniti nel secolo scorso erano un growing market, un fast growing market, un mercato in via di sviluppo in cui c'era forte contraffazione. Poi il mercato, l'economia cresce fino a un punto per cui c'è bisogno di stabilizzare, dare delle regole al mercato e le regole alla proprietà intellettuale sono quelle che evitano, appunto, copiare i marchi, brevetti, diritto d'autore. Quindi vedi che c'è una sensibilità maggiore negli ultimi anni su questo tema. Assolutamente. La Cina ha fatto un grande lavoro per cercare di arginare la contraffazione. I tempi delle cause sono molto, direi, molto più brevi rispetto ai nostri. Non che ci vogliamo. In generale ci sono diversi rimedi efficaci, ride amministrativi con cui si possono ottenere sequestre, la merce, le dogane sono efficienti. Insomma, è un sistema che funziona. Ma ti è mai capitato di andare di persona a verificare che ci fossero dei prodotti contraffatti? Sì, diverse volte, diverse volte. Questo forse era l'aspetto più divertente del mio lavoro perché sostanzialmente noi che cosa facciamo? Noi aiutiamo i clienti a registrare i marchi, magari quello è un tema carino di cui possiamo parlare dopo. Aiutare a cancellare i marchi registrati da altri, da contraffattori o altre imprese cinesi che bloccano la strada della registrazione dei clienti. E poi l'attività appunto di investigazione, di ricerca dei magazzini o dei luoghi dove viene venduta la merce contraffatta. Allora in questo caso di solito funziona così. si mandano gli investigatori quando si hanno già delle tracce, cioè si sa già dove andare a trovare della merce contraffatta. Ma a volte capita che ci sia il sospetto che ci sia merce contraffatta ma non si sappia ancora dove questa merce transita. Allora mi è capitato di andare a fare degli accessi in mercati del falso. Con la lente di ingrandimento, io ti ci vedo con la lente di ingrandimento. No, però un po' camuffato, un po' camuffato così di solito. Poi i cinesi che lavorano nei mercati del falso parlano un po' inglese ma non hanno molto chiaro per esempio dove si hanno la Spagna piuttosto che l'Italia insomma la vedono come Europa. Certo, anche io penso che ci vivo. Penso che sia tutto Europa. La giocazione è mai stata al tuo forno. No, penso di no, mi sento di confermare. No, e quindi arrivavo e magari facevo un po' di domande a questi venditori per capire a dove provenisse la merce. Dicevo, ah magari sono un importatore, sono un distributore spagnolo, sto cercando il grossista perché l'obiettivo era sempre quello di capire chi rifornisse questi piccoli negozi. Per fare un esempio pratico, tu vai alla Sagra del Trattufo Bianco di Pechino e chiedi se questo Trattufo Bianco è proprio di Pechino oppure... Ti fingi di essere un potenziale cliente. Gli proponi un grande affare, c'è bisogno di grandi quantitativi perché io ho di Tretti, di Tartufo Bianco, di Pechino. Non me ne faccio niente. C'è un ottimo Tartufo in Cina, il Tartufo dello Yunnan. Ah vedi che c'è, pensavo di aver... Rispetto al nostro, si può dire il nostro, perché mi dicono che il nostro Tartufo... Io ne ho uno qua in tasca. Mai senza. Sentivo un buon odore. Mi dicono che anche i nostri Tartufi poi vengono da altre parti, non è ben chiaro questa cosa. Però diciamo che richiedi quantitativi più grandi e quindi il negoziante, il singolo rivenditore non ce li ha. Però fiuta il business e quindi pensa di poter guadagnare una commissione, no? Da l'introduzione al suo fornitore che di solito è un distributore, un grossista o direttamente il produttore. Quando prendo il biglietto da visita del produttore allora poi mando gli investigatori. Ah ok. che si fingono anche loro ragazzi in cerca di un lavoro o un assicuratore o in qualche modo entrano e cercano di capire, fare foto e poi si manda l'autorità per la regolamentazione del mercato che è sostanzialmente la finanza cinese. Il problema è che abbiamo svelato tutto l'iter e quindi dovrete cambiare tutto quanto. Pensavo anch'io perché noi abbiamo un sacco di ascoltatori in Cina che ora l'hanno visto. Assolutamente, che parlano italiano benissimo. L'hanno visto, ma è saltata la copertura. È saltato tutto. Io sapevo che questa intervista non... Guarda, se vuoi una serie di maschere però per andare in giro che puoi utilizzare per non farti riconoscere comunque. No, ma io cambio sempre pettinatura. Ah, è vero, è vero, è vero. La congiuntura, quindi... Senti, perché e come registrare un marchio in Cina, Giacomo? Dicci. Io che sono interessato adesso proprio volevo... Volevi sfondare quel podcast anche in Cina. Trovati un lavoro vero in Cina. No, 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 aspetta, no. Dovrebbe essere tipo... Questo era più difficile, non lo faccio. Non lo faccio. Qualcosa del genere. Qualcosa così, va bene. Comunque la prima mi sembrava sbagliata. Sì, era un po' troballato. Non suonava bene la prima. Se io volessi esportare il mio brand... No, la domanda fondamentale è... Tu pensi di fare affari in Cina? Cioè, pensi che la Cina sia un mercato per te interessante? Sì, no. Se pensi che non sia un mercato interessante in cui non sbarcherai nei prossimi dieci anni, nel migliore dei mondi possibili, con un budget illimitato, certo, registra in Cina, siamo ben contenti di assisterti, il tema è il costo opportunità e poi una volta che hai il marchio lo devi usare, perché se non lo usi ti può venire... Può essere attaccato. Se puoi fare un'azione di cancellazione te lo possono togliere di mezzo, una seccatura e così. Quindi, perché registrarlo? Perché la Cina è un mercato molto importante. Non più solo per la produzione, ma come mercato di sbocco delle merci. Insomma, la classe media cinese è fatta da centinaia di milioni di persone, hanno potere d'acquisto, adesso vivono un momento drammatico per le misure di politica di restrizione, contenimento del covid, però è un mercato interessante, di consumo, che ama una serie di... certe categorie di prodotti in particolare. Quindi, perché farlo? Perché è un mercato potenzialmente molto interessante e anche perché se non lo fai, se non registri il marchio, qualche imprenditore cinese potrebbe pensare di registrare il marchio in Cina e quindi poterlo utilizzare e poi magari esportare merce nei mercati che a te interessano. Ora, tu in qualità di titolare del marchio nei mercati di tuo interesse puoi sempre bloccare questa merce, ma la devi trovare. Può darsi che tu non la riesca a trovare e quindi sui mercati di interesse potresti trovarti prodotti quasi uguali ai tuoi, forse meglio dei tuoi, perché la manifattura cinese ormai è equivalente o superiore alla nostra, questa è la verità, magari non nel lusso, ma su tutta una serie di settori, arredamento, tecnologia, non c'è neanche bisogno di stare a parlarne, è equivalente alla nostra. Quindi... Cioè, quindi, diciamo, il mio marchio, io faccio, non so... Tu cosa fai? No, sono proprio curioso, voglio sentire, cosa fai tu? L'oggetto X col marchio Trovate un lavoro vero, potrei, stai dicendo che un giorno potrei trovare, non so, in un paese Ypsilon, un prodotto quasi uguale a X col marchio Trovate un lavoro vero registrato in Cina da un altro imprenditore. Beh, l'ultima volta che ho controllato, alle bancarelle vendevano magliette con il marchio Nike, o... Adidas. uguali... Io ho fatto tutto questo giro di parole per non dire marchio Role. No, per dire che in quel caso Nike ha il marchio anche in Cina, però, insomma, la contraffazione poi cerca di esportare nei mercati come i nostri, quindi quello europeo, americano, dove c'è una classe media facoltosa. Ma ci sono differenze rispetto all'Italia? Cioè, se devi registrare un marchio là rispetto a qua? Ma diciamo che tu puoi registrare il marchio... in Cina c'è un aspetto diciamo quello che è fondamentale soprattutto per occidentali è avere un'idea chiara di come... di qual è il valore o il contenuto o l'idea che si vuole trasmettere col proprio marchio. Cioè, quando tu hai un marchio occidentale che trasmette un certo valore per esempio, non so, McDonald's, ok? È riconosciuto come un marchio nella sua categoria leader. È molto difficile arrivare sul mercato cinese se non hai un'idea di come tradurre questo marchio in caratteri cinesi. Allora, questa cosa la puoi fare in più modi. Puoi tradurre il marchio con una traduzione fonetica. Per esempio, McDonald's, Maidan Lao. Suona più o meno simile, no? A me no, però ti voglio credere. Più o meno, no? Più o meno. C'è un'assonanza. In qualche modo, non so, Audi, Audi. Ok? Questo è già più simile. Ti suona? Questo sì. A meno male. Mi c'è Audi un po', un po' mi girano, però vabbè, dai. Più o meno, insomma, è una traduzione fonetica. Altre volte puoi fare una traduzione letterale. Per esempio, Apple si chiama Pinguo. Vuol dire Mela? Mela. Eh, la sapevo. Ok. Oppure, non so, Palmolive, Zonlan, no? Palma e oliva. Qua non stai magari trasmettendo un grande significato, però mantieni il significato del marchio, no? Cioè, non vuoi, non approcci il mercato cinese stravolgendo il tuo marchio. Ok. Poi ci sono marchi come Coca-Cola che sono il migliore dei due mondi. Cioè, hanno una traslitterazione, una traduzione fonetica, Coca-Cola, e hanno, e trasferiscono un significato positivo, no? Cioè, c-co-c-la, cioè, bocca dissetata, bocca felice. Ok? Più o meno questo è il significato. Cioè, riescono a... Bocca felice, ho capito. Bocca felice. C-la, sì. Io sono un po' malizioso e mi... qua è la... Felice, no? Mi vengono a mettere delle immagini un po'... No, è la paternità. È peggio di te. È peggio di te, tuo fratello. È la paternità. C'è l'ormone, ragazzi, un po' impazzito, scusate, che la paternità fa questo effetto. Senti, Teo sa benissimo che io non ci dormo di notte per questa cosa che ti volevo chiedere. Si possono vendere porzioni di marchi? Sì. Vedi? Eh? Ma anche da sporto? Ma che mi sta divagata così. Assolutamente. Assolutamente. Facciamo tutto per i clienti. Il marchio da sport, un grande classico, facciamo. No, sì, si può fare. Peraltro è una cosa abbastanza frequente nel senso che un famoso marchio di sigarette, Malboro, è negli Stati Uniti proprietà di Altria e nel resto del mondo è proprietà di Phil Morris International. Schweppes è un marchio che appartiene a Kerry Dr. Pepper in Nord America, Coca-Cola mi sembra in Australia e qualche altro paese, Pepsi in Europa. Quindi non sono, sono situazioni che sono abbastanza frequenti, poi succedono per in seguito a operazioni di fusione e acquisizioni oppure possono succedere su insomma io ho seguito dei clienti a cui sono arrivate offerte milionarie per vendere il marchio in Cina e a un certo punto è come quasi una una vincita alla lotteria che dici clienti che magari non faccio guarda se senti qualcuno che vuole trovati un lavoro ma guarda se proprio ti capita io ci penso attiviamo subito i nostri canali non ti sto dicendo di sì ti sto dicendo ci posso pensare sai cosa secondo me questo è un questo è uno degli aspetti più interessanti al mio lavoro nel senso che queste operazioni di vendita del marchio sono tutte nate su iniziativa dei cinesi che e qua torniamo alla Nigeria caro e vedi che c'è il collegamento però come gli scammer nigeriani probabilmente si sono fatti una lista di marchi che gli interessano e quindi dicono e come lo scammer nigeriano che scrive a 10 milioni di persone e quelli che rispondono sono dei goioni e quindi hai fatto mi stai dicendo che quelle mail che mi arrivano dal principe che hai ereditato una cifra milionaria rispondi subito ma lui continua a dire guarda sto rispondendo alle mail è quello che rispondi allora si poi però ti chiedi i soldi sulla poste pay per dare l'acconto per sbloccare queste operazioni queste operazioni sono sempre nate su un'iniziativa di cinesi che hanno contattato imprese cinesi anche molto grandi che hanno contattato imprese italiane che per tutta una serie di ragioni secondo loro avevano un marchio interessante per la loro categoria che potevano funzionare per il mercato cinese eccetera eccetera iniziando sempre dall'alto cioè noi tendiamo a pensare a una trattativa in cui uno se vuole comprare qualcosa offre il minimo possibile e invece questi per convincere gli imprenditori a vendere partivano alti acquistare l'automarchio per 10 milioni ma è tutto il contrario di quello che insegnano nelle tecniche di negoziazione fanno proprio non so il fantacalcio però dipende il fantacalcio è vero che quando spari alto scoraggi la concorrenza fai dei grandi colpi vado da Armani e dico mi vendi il tuo marchio in Cine per 10 milioni e poi mi fanno una bernacchia e dice no te ne vedrò mai come faccio a capire se uno è disposto a vendere devo partire con la fine è una discovery devo scoprire qual è il prezzo e quindi non è un titolo quotato insomma non è elementi quindi gli spari un centone gli sparo una cifra alta l'imprenditore poi si tirano indietro però aspetta aspetta l'imprenditore in qualche modo è approcciato di solito l'offerta arriva tramite l'intermediario l'imprenditore insomma quasi dice quando sono le telecamere è uno scherzo poi incontra l'impresa cinese e in qualche modo scrivono su un foglio di carta che non ha alcun valore esatto non ha nessun valore però più o meno l'accordo quadro c'è quando l'imprenditore torna a casa si è già pensato beh allora ho i soldi per lo yacht poi la moglie l'amante la mette nell'appartamento in fondo alla strada così a mia moglie le compro pure la borsetta mi vive mi rompe la macchina e quindi adesso gliela compro e in più c'è soldi in banca io non faccio più niente quindi si sono costruiti nella loro testa una certa idea poi gli imprenditori cinesi spariscono e non sono dei truffatori sono imprese serie che hanno che fanno magari centinaia di milioni di dollari l'anno di fatturato però è una tecnica negoziale che ci tengono insomma non stiamo parlando di uno scam spariscono poi riconvocano nuovamente l'imprenditore italiana a recarsi in Cina per come posso dire per trattare discutere ma riprendere la trattativa e in quella sede tiè metà della metà chi lo sa lamentano qualche difetto diciamo sono accorto che questo marchio ha una virgola verso l'alto che nella nostra regione porta sfiga io vorrei farlo e cominciano con sconti ogni volta che chiedono uno sconto sul prezzo per loro è come la bacchetta del cieco che ti dà un'indicazione è uno strumento per capire di quanto si può scendere con il prezzo e quindi continuano a creare nuove situazioni fino a quando poi si arriva ci si incontra perché poi l'imprenditore italiano a un certo punto dice no oltre questa cifra non posso più quanti anni durano mediamente però crea una condizione di terrore di paura di perdere l'affare della vita perché ho pensato ho già ordinato tutto e invece qua perdo tutto quindi a un certo punto poi si chiude si chiude sempre bene di solito insomma la volontà delle parti è quella di chiudere l'accordo però c'è una e può essere anche molto teso e drammatico per l'imprenditore e purtroppo è anche difficile questo direi che è il mio ruolo è quello di cercare di tenere la barra dritta no perché il consulente è sempre esterno insomma tende a vedere le cose chiaramente cerca di spiegarlo al cliente ma non è sempre facile immagino che ci siano poi anche tante variabili ecco ma tu che sei un grande appassionato di investimenti borsa eccetera eccetera ma assisti finalmente però è una roba interessante ma assisti anche i tuoi clienti su queste cosine qua in Cina no assolutamente no non ti chiedono magari dove investire qualcosa in Cina no anche perché in Cina non si può investire direttamente non si possono comprare titoli di società cinesi si possono comprare gli ADR delle società cinesi che sono quotate in America ma non insomma non si possono comprare i singoli titoli di società cinesi si possono comprare etf cioè exchange trader funds che ti permettono di acquistare tutto il mercato cinese ma non i singoli titoli ed è anche peraltro un mercato molto difficile pubblicato sì quindi consigli la differenza fondamentale secondo me rispetto al mercato statunitense è che il mercato cinese è centralizzato quindi insomma se c'è un intervento di tipo regolatorio basta vedere Alibaba il tracollo che ha avuto succede così cioè dalla sera alla mattina che non bene se il settore deve essere diciamo inquadrato con nuove regole che potrebbero essere non particolarmente interessanti cioè nuove regole che potrebbero comprimere gli utili delle società perché impone più attenzione ambientale più materialmente di assumere più personale insomma cioè le imprese lo devono fare e questo succede molto rapidamente non c'è il tempo di reazione per uscire in America insomma c'è un dibattito nel Parlamento americano insomma non c'è quella rapidità insomma ti dà il tempo di uscire e di valutare la gravità della situazione insomma quindi è un mercato particolare per questo motivo io personalmente non investo in società cinesi non perché non siano ottime società sono ottime società ma perché vedo il rischio regolatori troppo alto ti volevo anche chiedere è importante conoscere i gusti la cultura cinese per trattare poi dopo magari con loro rispetto a quello che dicevamo prima o per aiutare magari i tuoi clienti o dici no è una cosa che uno può fare anche se magari non ha vissuto là non è stato là ma certo che è importante secondo me purtroppo noi in occidente abbiamo un approccio per cui pensiamo di avere come dire un non voglio dire che abbiamo una superiorità un approccio di superiorità o di una presunzione di saper fare meglio le cose però insomma c'è sempre almeno fino a poco tempo fa c'era un'idea negativa dei prodotti fatti in Cina senza robaccia e anche dal punto di vista del design è un settore in cui siamo forti in Italia non si può dire no però se l'idea è andare a vendere ai cinesi un po' l'idea della cultura cinese di come di come il mercato di quello che vuole il mercato cinese lo si deve avere il rischio di soprattutto più che su dal punto di vista del design dei prodotti dal punto di vista della comunicazione cioè sono storici sono storiche le gaff di Dolce Gabbana e di altri brand occidentali che sono entrati in Cina pensando di fare anche delle campagne carine divertenti che sono finite poi per offendere la sensibilità del pubblico cinese benissimo con poi capito tutto sì con sfilate che si sono sono state interrotte negozi con le serande chiuse per mesi insomma bisogna capire il mercato in cui ci si muove e forse farsi assistere da professionisti locali quindi la campagna marketing in Cina ti devi prendere l'agenzia cinese che ti aiuta a fare la sintesi tra l'identità del tuo del tuo marchio della storia della tua società e poi cercare di coniugarla con i valori cinesi insomma se no c'è il rischio di fare un mezzo disastro ho anch'io un aneddoto su questa cosa qua faccio l'aneddoto io in questo caso anche se non sono colpo di scena una cosa che mi appassiona che la NBA qualche anno fa un general manager di una squadra NBA che se non ricordo male erano gli Houston Rockets fece un tweet un po' critico sulla Cina che praticamente oscurò tutte le partite dell'NBA per non so quanti mesi con un danno da centinaia di milioni di dollari quindi bastava veramente un minimo accenno anche non da un soggetto diciamo che rappresentasse la Lega ma soltanto riconducibile all'NBA per provocare un danno a catena pazzesco sì qua c'è forse il doppio tema sia del cioè da una parte del rispetto di una cultura diversa da quella magari dell'azienda che fa quel tipo di comunicazione e invece poi quello che è diciamo in questo caso forse era più non tanto su una questione culturale ma di politica sì qua non era esatto tanto culturale però per far capire che ci sono certi temi che forse c'è sensibilità verso la comunicazione perché le puoi fare verso determinati paesi senza particolari percussioni ma in Cina penso siano un pochino più suscettibili ecco non so come su certi temi io non ho detto divertente a proposito di geografia e Houston Rockets attorniamo alla geografia che tanto ti appassiona dove è Houston bravo no lui mi chiedeva ma qual è la città quando eravamo piccoli eh ti parlo eravamo piccoli due o tre anni fa qual è la città tra Houston e Rockets e io risposi Rockets ovviamente e invece non era Rockets non era Rockets era Houston però quanti anni avevo Matteo mi ricordo che potevano essere elementari eh no secondo me sì guardavamo non so cos'è che guardavamo perché c'era qualche trasmissione sull'NBA qualcosina comunque in tv c'era NBA action c'era grande con Dan Peterson ancora prima secondo me su Tele Monte Carlo c'era qualcosa Dan Peterson che io e Matteo siamo grandi tifosi degli Orlando Magic che fanno schifo da vent'anni beh però voi quando voi guardate l'NBA con gli Orlando Magic c'era Shaq e Hardaway bravo lasciamo tifosi di un'epoca che non si è più purtroppo adesso però c'è Paolino Banchero che è stato draftato alla 1 italianissimo Banchero e quindi ti fate tutti quanti Orlando Magic perché c'è anche Banchero che è italiano-americano che tra l'altro Giacomo ha delle radici in America quindi c'è anche questo collegamento nel senso che la radici mia nonna si era sposata con un signore americano in seconde nozze e quindi poi ha fatto tutta la sua vecchiaia a Los Angeles non Los Angeles Orange County quindi hai parenti e anche la sorella di mia nonna si è sposata tra Orange County no Los Angeles la città e Lakers giusto ovviamente devresti fare uno spin-off la geografia con la geografia secondo me metterò un altro link nei commenti anzi intanto iscrivetevi al canale seguiteci ovunque Instagram non lo so ovunque uno slogan o vi iscrivete al canale o vi buttate nel canale bello bellissimo bellissimo no c'era una perla di Maurizio Mosca sulla geografia che a un certo punto è impazzito che ha iniziato a rilare ma la geografia ma chi se ne frega quanto è lungo un fiume adesso non me la ricordo bene però faceva morire da ridere la metto nei link che quella vale veramente la pena di vedere così anche una pillola di cultura ma certo che noi una volta di tanto bisogna mettere bisogna alzare un po' alziamo il livello assolutamente e per alzare il livello io so che tu hai partecipato a una trasmissione televisiva in Cina tanana sto guardando mia moglie che ha uno sguardo laser si può dire si dice di si si io non so se adesso l'abbiamo già detto lo ricordiamo sono andato ai soliti ignoti quindi non so se tu riuscirei ad arrivare al mio livello cioè Amadeus in Cina l'Amadeus cinese come si chiama l'Amadeus cinese c'era beh c'era il presentatore dello show che ho fatto adesso non so che non mi ricordo anche più come si chiami però era un ma quindi si è andato in uno show si si era tipo The Bachelor insomma non l'ho presente quello di libri attore no? non è quello lì ah quello lì? no credo che sia più un taglio diciamo sentimentale è un sbaglio sentimentale ok è questo per quello si si tipo come si chiama quello di Alberto Cassano stagna aspetta come si chiama Stranamore Stranamore e sai che non ce l'ho presenza Stranamore però sostanzialmente stavo in piedi davanti a 24 Nujabin 24 ospiti signorine cinesi e veniva proiettata la mia storia quello che facevo eccetera eccetera e poi queste insomma poi mi intervistavano mi facevano delle domande insomma più luci accese meglio io invece ho perso erano spento tutte le luci ah ma ho capito come si chiama questo programma c'è in Italia tipo sul 9 mi sta campato con Gabriele Corsi quello del Trio Medusa ah ok sì allora ho capito mi ricordo come si chiama però c'è questo format lo show che ho fatto si chiama Fei Chang Wu Rao If You Are The One ok quindi niente t'hanno tutte ti ho perso poi insomma non sei stato ripescato non sono stato ripescato l'ultima che era rimasta non era il mio tipo non è andata bene però insomma è stato molto divertente poi mi hanno scritto a tutto il mondo è stata una cosa a tutto il mondo davvero sì tutto il mondo sì te lo viste tutti no perché lo show ha fatto non so centinaia di milioni di visualizzazioni quindi ma si trova su YouTube la puntata? sì però non diciamo mettiamo il link togliamo quello di Maurizio Mosca e mettiamo questo ci tengo alla mia testa adesso invece inizierai a lavorare in proprio sì sì mi sono unito a un caro amico compagno di scuola insieme al al brother qui per cesco e sì abbiamo deciso di fare ci sono queste classi no dove escono questi geni no questo è il capitalismo della nostra zero nelle nostre classi uno schivo veramente uno peggio dell'altro invece voi chi erano in classe insieme? ma come siete tipo Steve Jobs Carl Cobain Michael Jackson erano tutti insieme hanno unito la crempita Pacciani sì sì eravamo tutti insieme Pacciani era con noi Matteo sei pronto a questa nuova sfida? ti stai preparando? sì sì pronto carico è una bella realtà uno studio boutique IP quindi facciamo tutela marchi in Asia ma boutique nel senso che vendete anche cose marchi marchi vendiamo marchi porzioni di marchi marchi al taglio e questo e altro affettato fino fino però se è possibile io sono curioso ti faccio una domanda un po' del cavolo su come hanno vissuto questa cosa del covid in Cina che loro proprio sono stati abbastanza sapevo che avremmo parlato di politica no no chiuso tutto beh loro sono rimasti chiusi un sacco anche dopo però scusami con pochissimi casi sì con pochissimi casi all'inizio e adesso una situazione drammatica diciamo che ancora adesso ecco io tipo adesso non sento più niente eh no ci sono ci sono tanti casi no e in generale c'è tipo che non parlano molto più di se uno non legge i giornali in effetti è il paese è figaro guarda bravo finalmente c'è uno che dice che giornali leggo io però della Cina insomma del covid in Cina si parla meno del covid in generale si parla poco qualcosina se ne parla sì però in Cina quasi zero diciamoci le cose come sta in questa parte del mondo è storia vecchia chi se ne frega insomma mi sembra che ormai ci siamo vaccinati in me c'è un libero di tutti sì un po' è così in Cina diciamo che loro nel 2020 la differenza sostanziale è questa è ovvio che in un paese come la Cina hai la capacità di gestire una pandemia in una maniera molto diversa rispetto a una democrazia occidentale tornando a quella velocità di cui parlavi prima esatto una velocità di esecuzione che qui non puoi avere perché è fisiologico in una democrazia devi avere un dibattito bisogna ascoltare un po' tutti i vari punti di vista e poi stiamo parlando di una restrizione fortissima la libertà di movimento delle persone quindi insomma avete visto negli Stati Uniti cosa è successo un sacco di persone non lo accettavano andavano in giro senza mascherina insomma è complesso in Cina questa cosa può essere fatta molto più velocemente con diciamo in maniera allineata e infatti la risposta ha funzionato nel senso che hanno fatto un periodo di due mesi chiusi in casa adesso potrei sbagliarmi un mese e mezzo quello che è a marzo del 2020 però hanno di fatto ridotto i casi a zero senza bisogno di altre misure secondo me c'è un problema di fondo che è la Cina come ha delle ambizioni di essere un'alternativa all'impero americano e questa ambizione nasce dalla crisi del 2008 sostanzialmente la Cina ha visto che il sistema americano che ha preso una botta fortissima con la crisi dei mutui subprime c'è un film bellissimo che ho visto recentemente come si chiama porca miseria The Big Short può essere bello con Christian B dal libro di Michael Lewis ma l'hai capito? chi? andiamo avanti a posto così niente niente scusa se ti ho svegliato però quella crisi che quindi abbiamo tutti chiara da un punto di vista almeno visivo solo perché abbiamo visto il film tra l'altro parlava di quello il film sono un po' disorientato tu vai avanti per la tua strada non ascoltare quella è stata l'occasione per la Cina di come dire andare al vedo e buttarsi e forse mettere la freccia per il sorpasso e da lì è seguita la One Belt One Road l'idea di stendere le proprie infrastrutture per servire i paesi in via di sviluppo per forse anche togliersi un po' il vincolo americano perché l'America è tutta intorno alla Cina cioè ha delle basi in Corea il Giappone è un paese molto vicino agli Stati Uniti insomma lo sappiamo Australia Filippine poi la Cina ha questa relazione conflittuale con l'India quindi insomma la Cina si sente un po' accerchiata e quindi per divincolarsi si crea delle infrastrutture delle ferrovie che passano per il Pakistan strade che passano per il Kazakistan si compra i porti insomma si vuole assicurare la possibilità di mantenere i suoi flussi commerciali come avviene in ogni classico ciclo dell'impero su questo tema vi consiglio di leggervi l'ultimo libro di Ray Dalio che spiega molto bene come funzionano queste cose ecco lui aveva fatto le medie con noi non ricordo era uno dei nostri l'unico che ce l'ha fatto è l'unico era quello che faceva soldi speculandosi le merendine era lui ma è vero che si stanno anche espandendo in Africa tornando alla Nigeria beh si si sapevo che volevano costruire la Cina ha un problema che ha un territorio molto grande ma non molto fertile di solito c'è una comparazione con gli Stati Uniti gli Stati Uniti sono un paese che ha un terreno fertile poco utilizzato sostanzialmente utilizzato da poche centinaia di anni con montagne fiumi gli oceani da entrambi i lati pieno di risorse naturali la Cina è un paese che ha un terreno che è stato utilizzato da migliaia di anni la parte coltivabile è quella lungo la costa dove vive la maggior parte delle persone e questa è anche forse un po' la difficoltà ora della Cina per questo decennio e quelli successivi cioè quando tu hai un trend e qui siamo finiti a parlare di giocoliti a Maurizio Mosca non gliene frega niente ma tanto è morto quindi voglio dire si può andare avanti prendetegli subito il numero di telefono quando hai il trend secolar della popolazione che si muove dalle campagne va nelle città i figli passano da essere una risorsa perché ti aiutano nei campi a un costo perché il costo dell'immobiliare è il costo della terra insomma delle case è alto quindi già hai un trend per cui si fanno meno figli le donne nelle città con la luce elettrica possono studiare no? e quindi anche le donne si creano si fanno un percorso di studio di carriera e danno la priorità insomma sono madri ma anche altre insomma e quindi anche quello e in Cina hai una situazione drammatica per cui ho avuto decenni di politica del figlio unico e poi le città con il costo della vita almeno con il costo immobiliare paragonabile tra i più elevati del mondo quindi a Shanghai hai dei costi per metro quadro altissimi questo incide fortemente sul ricambio generazionale nuovi figli insomma e quindi la Cina è un paese che è come la Corea come il Giappone come noi sta invecchiando molto velocemente e con la popolazione che si sta sta riducendo solo che non è facile perché non ha altre aree dove le aree con acqua utilizzabile non inquinata non sono tantissime insomma poi è un paese grande quindi ce la faranno però mi ha dato una bella idea di mandare le mie figlie a zappare in Cina ma non lo so dove vogliono loro alla fine che così mi costa meno scusami per tornare alla domanda perché la Cina investe in Africa perché ha bisogno di fare un classico questa è una politica che noi italiani conosciamo bene perché Mattei che aveva il problema di procurarsi le risorse cioè il petrolio aveva un mercato che era chiuso dalle sette sorelle come ha fatto ad entrare in questi paesi pagando di più o offrendo servizi aggiuntivi quindi la Cina da questo punto di vista compra commodities quindi insomma dal petrolio alle materie prime ma anche cibo sostanzialmente prodotti agricoli e in cambio sposta costruisce delle autostrade costruisce delle infrastrutture a favore di questi paesi porta valore porta lavoro e quindi insomma riesce a procurarsi perché è una competizione insomma un mercato dinamico bello molto interessante ma non è capito nulla non è capito nulla sono cose troppo interessanti troppo intelligenti io voglio volare bassissimo troppo io se volete andrei col domandone non so se volete è terrorizzato è terrorizzato mani nei capelli addirittura non sa la cosa drammatica è la cosa veramente drammatica del domandone è che se il soggetto è vero è interrogato non risponde correttamente a quante almeno a 3 su 5 a 3 su 5 viene radiato completamente voglio guardare la telecamera quando lo dice guardate la telecamera voglio che il pubblico veda la paura nei miei occhi viene radiato da qualsiasi eventuale albo può essere iscritto licenziato sul posto di lavoro brasato completamente sui social media licenziato dal mio stesso studio dal tuo stesso studio di cui sei titolare quindi ti autolicenzi ma prima una domanda questa volta ne hai fatte cinque o ne hai fatte quattro come sempre no quattro domande non ne possiamo fare perché quattro in cina porta sfortuna cinque quattro vuol dire morte s s s s ecco noi prima quando facevamo le prove erano s stavamo augurando la morte infatti io avevo una mano in un luogo strategico per poter vado eh che differenza c'è tra registrare o brevettare un oggetto barra marchio beh si registra un 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 marchio quando si registra un marchio si registra un segno un carattere distintivo denominativo figurativo quando si brevetta si brevetta un oggetto o un o un procedimento che deve avere una serie di caratteristiche quindi originalità inventività novità industrialità la prima l'ha già beccata porca miseria non ho neanche segnato la risposta perché sapevo che sapevi che l'avrebbe saputo che l'avrebbe saputo quante bacchette usano all'anno i cinesi e qui però voglio essere gentile con te alt bacchette da batteria bacchette di che tipo bacchette quelle per mangiare ok importante specificare hai ragione hai ragione potrebbero essere bacchette di qualsiasi tipo quelle per mangiare 20 miliardi 45 miliardi o 100 miliardi posso chiedere l'aiuto da casa? Miro puoi aiutare se vuoi dice no dice che non ti vuole aiutare quanti sono loro? sono un miliardo e mezzo 4 5 questo magnano eh magnano quindi abbiamo detto 20 45 o 100 miliardi mangiano solo con le bacchette intanto si chiamano bacchette oh sì quasi si chiamano in cinese l'hai tradotto? le bacchette le chiamerei bacchette però immagino cioè non siano usegetta sì ci sono usegetta però nella vita quotidiana subito no ma nella vita quotidiana cioè ognuno avrà le sue bacchette ma usano anche le portaglie io direi 100 miliardi 100 miliardi eh sbagliato 45 miliardi ma usano anche forchette queste cosine qua beh se vai al ristorante italiano ti danno le forchette ma loro a casa loro no non ce le hanno ma sai cioè la torta annunziale come la tagliano con una bacchetta gigante con un coltello questo è un coglione una katana è vero c'hanno le katane sapevo che sarebbe caduto sulla katana no però ma dov'è la telecamera uno scherzo allora non questa dico quella di lo so che le katane ci sono in Giappone ma ce ne avranno anche i cinesi le katane ma ho delle spade anche ma io sono italiano è diverso ho capito scusa i cinesi come come si ammazza è vero che che spade usano la spada tipica cinesa loro hanno inventato la polvere da sparo non so sto sparando cose a caso totalmente le armi bianche cinesi c'è un'arma bianca scusami eh ma sono pacifici i cinesi allora non hanno mai combattuto beh i giapponesi effettivamente si sono ammazzati un bel po' no beh hanno combattuto alla grande i cinesi però dico con le bacchette non so cosa facevano c'hanno una katana anche loro magari uno chiamavano katana i fucili con le baionette insomma avranno avuti mezzi non lo so guarda non passa parola va bene non sono ferrato su anni bianche e cinesi contemporanei ma sei un matto io l'ho di sicuro io l'ho di sicuro dove sono nati i biscotti della fortuna guarda che sono domande importanti queste fuori dalla Cina mi verrebbe a dire Cina Russia o Giappone biscotti della fortuna ti rimangono 5 secondi Cina Russia o Giappone il tuo futuro Giappone bravo ottimo se hai due azzeccate e una vedi però che tu pensavi no la katana lo so anch'io che la fa però ho detto magari ce l'hanno anche loro invece no il biscotti della fortuna è in Giappone quali invenzioni non possono non si possono brevettare qua ho deciso domanda aperta c'è risposta aperta ma tu la sai la risposta è giusta perché l'ho letta certo non è che la sapevo io di mio c'è qualcosa che non si può brevettare o è tutto brevettabile se è qualcosa che non ha un carattere novità che non può essere non può essere oggetto di applicazione industriale non può essere brevettato dai per me va bene io ho segnato tipo le scoperte le teorie scientifiche i metodi matematici si ok anche fuori quindi ha già vinto hai già vinto hai già vinto quindi questa poi poi anche non rispondire non ti devi licenziare no dai tranquillo questa non so la risposta dove l'ho trovata neanch'io quanto dura la proprietà intellettuale no ma dove eh ma quando credo che la domanda sia quanto quanto dura la registrazione di un marchio in Cina e io invece ho proprio trovato quanto dura la proprietà intellettuale non lo so secondo il marchio il diritto d'autore il diritto d'autore dura 50 anni la registrazione del marchio dura 10 anni e rinnovabili ogni 10 secondo me è giusta la tua io non so dove cavolo ho trovato che dura la vita ma cosa è trovata su wiki house ma la vita è di tipo ma la vita è di tipo e fino a 70 anni dopo la morte dell'autore ma forse è riferito a quello musicale no ma tu stai parlando del diritto d'autore in Italia credo boh non lo so non so si vede la competenza il copyright in Cina dura 50 anni è un momento imbarazzante il brevetto 20 è bello essere intervistato da soggetti competenti che pochi masticano la materia la professionalità prima di tutto quello è arrivato preparato quello ma sono anche bravo a usare internet soprattutto perché non trovo neanche le risposte fatti una domanda e datti una risposta si su un argomento che secondo te può essere di interesse per il nostro stimatissimo pubblico stimatissimo questo è difficile se vuoi fare una una cosa interessante la domanda fatta da lui no la domanda no te ne faccio una io te la faccio io preferisci è una domanda che ne nasconde un'altra chi è Giacomo Balletti o meglio cos'è Giacomo Balletti è Iron Man cavolo che domanda risponde sempre uguale no lo so lo so tendo a pensare prima di parlare è questo difetto di getto di getto dai quello che ti viene una persona che cerca costantemente di migliorarsi consapevole dei suoi limiti io sto per piangere no mi è piaciuta molto beh non è una risposta è una risposta molto bella che può essere e anzi aggiungo una cosa è consapevole purtroppo del celere passare del tempo che è forse la ragione per cui sono così ossessionato da leggere fare fare tante cose è consapevolezza che il tempo passa veramente velocemente io ho un sacco di capelli bianchi io io mi distrappo non volevo dirlo però questo giro dei livelli di trash non so perché scusaci scusalo ma è sempre così ma no ma è la prima volta si è emozionato a volte sono peggio sarà la confidenza che abbiamo che lo ha spinto ma vabbè qualche aneddoto divertente sul liceo invece ragazzi mi sa che non basta una puntata mi verrebbe a dire quella della band allora io e il mio socio e un altro amico chi è il tuo socio Simone ah il socio scusami pensavo il socio nuovo di lavoro ok un altro amico insomma avevamo una band musicale punk rock ok quindi era un periodo delle nostre vite molto confuso in cui ci lavavamo poco ci ossigenavamo i capelli confermo confermo le frequentavo e confermo che l'igiene non era proprio ai massimi livelli però a quell'età i ragazzi insomma eravamo pre-pubertà quasi secondo me non puzzavo neanche così tanto ma cosa suonavi suonavo la chitarra ma malissimo così e volevamo fare questa band poi a un certo punto non ricordo cosa succede perdiamo il bassista una roba del genere allora dov'è che si è perso ma perché se n'era andato perché eravamo scarsi o forse no forse Simone il batterista se n'era andato dovevamo sostituire una roba del genere insomma quindi scrivo sulla bacheca no band punk rock terza cos'era no seconda seconda F cerca no al liceo classico siamo alla ricerca di un batterista contattami Giacomo vado il giorno dopo non arriva nessuna telefonata vado il giorno dopo a scuola non c'è più l'annuncio sulla bacheca allora lo riscrivo e poi ancora me lo tolgono me lo strappano a un certo punto comincio a scriverlo a scriverlo in latino poi lo scrivo in caratteri greci poi lo scrivo in maniera goliardica bandi di pagliacci musicali mariacci cercano insomma a un certo punto entra in classe erano questi insegnanti di italiano cattivissima spaventosa poi era sempre alla fine in fondo della classe nascosto pronta a imbucarmi per non rispondere perché io ho fatto un liceo sostanzialmente frodando e barando insomma vivendo adesso si può dire sì nutriendomi degli scarti delle briciole dei compiti degli altri per assemblare cose insomma così secondo me bisogna essere un po' pirati e quindi era il mio modo di essere entra la vicepreside credo e dice un pacco così di foglie e avvicina la nostra insegnante che era poi quella fondamentale perché guidava lei e dice sussurra qualcosa a un certo punto e fa qua cercano Giacomo Giacomo Balletti io ho detto che qua abbiamo solo Gian Giacomo quindi siamo a posto a un certo punto fa chi è Giacomo io qua Giacomo Giacomo è seconda F non ce ne stanno e a un certo punto così preso da un senso di colpo ha alzato la mano sono io insomma questa mi prende la vicepreside mi prende per l'orecchio mentre saliamo le scale fa tu mi devi spiegare perché continui a scrivere questa manica di cazzate era lei che ti toglieva tutto era lei sì ma non lo so ma perché non voleva che tu trovassi un batterista è pazzesco ha detto se tu vuoi pubblicare sulla bachica c'è bisogno della marca da bolo ma perché andrò a me ci toglierlo non venite a me a dirmelo la burocrazia a madonna manca da bolo funzionava così al beccaria ragazzi tutto in marca da bolo assolutamente se vuoi ti racconto l'esame di maturità però non lo so se vuoi è la più grande truffa legalizzata non so per te più che altro per me non è che ti revocano non è che ti revocano la maturità sai che per anni ho avuto l'incubo poi ho avuto la sindrome dell'impostore quindi avevo quindi è meglio non dirla tagliamo tagliamo no sostanzialmente diciamo che una una materia l'avevo studiata così un po' alla leggera vabbè una materia dai sì sì no no tutto mi ero preparato ma una io geografia pensa ad esempio una materia visto che ormai il tempo non vedi il tempo passava troppo velocemente non ero riuscito a prepararmi quindi ho preso il libro ho detto io studio solo questo la prima domanda che mi ha fatto l'insegnante non diceva non diremo di quale materia quella esattamente quella domanda anche mi è venuto quasi da ridere è evidente che è uno scherzo questa chiuso a letto per me bravissimo bravissimo grande no si poteva dire dai ti senti in colpa no però mi senti un po' in colpa perché avrei dovuto approfondire non è che non ho studiato è che avrei dovuto approfondire gli altri temi possiamo rifarla da capo fartela rifare da capo no è uno scherzo ho studiato tutto benissimo bravo Giacomo dove ti troviamo per se vogliamo in Nigeria no mi troverete tra qua e Hong Kong torni a Hong Kong sì ma tipo su internet mi trovate su LinkedIn mi trovate sul nostro sito possiamo si può dire devi dirlo sì pallavicinilegal.com e su tutti i principali social network e su tutti i principali social network sì compreso TikTok no 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 TikTok no e dove te parlo porca miseria no no sono sbarcato anche io su TikTok col dito e noi invece ripeto mettete iscriviti like ma noi ci siamo su TikTok noi non ci siamo facciamo un balletto facciamo un balletto dopo lo facciamo su TikTok grazie a tutti anche qua abbiamo raggiunto dei livelli altissimi e alla prossima puntata di Trovati un lavoro vero ciao 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 ciao